Movie of my life I film che più ci hanno segnato la vita io ne ho uno magari facciamo un film in pieno sequenza va bene? Sì! Sai cos'è un pieno sequenza? No! Nemmeno io ma rende dirlo Cappelli posto? Sì, vai! Seguimi perché è un percorso di ostacoli difficilissimo Ok Vero? Tutto bene? No dai papà, vero? Scusami! Amore? Posto? Sto allaccando amore Quanto mi sta restando con la mia data? Bene Seguiteli Ce l'abbiamo fatta eh Siamo a tanti ma non tantissimi Andiamo a prenderlo Se lo trovo nella videoteca personale E' curioso di sapere qual è il film che mi ha segnato la vita? Sè Sè? Ti fa ridere? Sì